Mister Parisella è una mista che ci ha creduto, recrimina un po' magari sul gol annullato di Florio ma alla fine ha venduto carissima la pelle e un bel derby con il Terracina. Sì, noi ci tenavamo a fare bella figura perché era normale questi tipi di partite, poi gli stimoli vengono da solo. Abbiamo preparato la partita bene, l'abbiamo dimostrato in mezzo al campo, però purtroppo sempre per nostre disattenzioni in un minuto si è cavavolta una partita che noi bene o male ce la stavamo giocando alla pari perché siamo andati in vantaggio e abbiamo avuto pure l'occasione per fare il 2-0, per due cose l'ultimo passaggio non riuscito come si deve e poi loro in un minuto, una palla inattiva, abbiamo compromesso la partita. Però lo spirito che abbiamo adottato nel secondo tempo è lo spirito giusto per le squadre che vogliono rimondare certe partite perché poi questi tipi di partite se non c'è questo agonismo, questa voglia di vincere, alla fine rischia di fare brutta figura. Ci abbiamo creduto fino alla fine, purtroppo oggi, lo devo dire, siamo incappati non dando l'albitro ma i guardalini in una maniera così indecisa. Non si può annullare un gol quando c'è su un calcio d'angolo che c'è il giocatore quasi sul palo, non esiste assolutamente. Quindi non lo so che cosa oggi sia successo a tutte e due, però bisogna dar merito a questi ragazzi che ci hanno creduto fino alla fine e hanno dimostrato di voler la partita. Ho notato leggendo le distinte che ha l'imbarazzo della scelta nei giovani, spesso a Valentini le dispiace pure rimanere qualcuno fuori. Purtroppo sì, però ho parlato con i ragazzi prima della partita, gli ho detto che nella settimana abbiamo tre partite e quindi tra tutte e tre le partite, oggi, mercoledì e domenica, ci alterneremo perché dobbiamo andare sempre con gente fresca, gente, giocatori che possono garantire i 90 minuti in una certa maniera. Quindi chi non ha giocato oggi sicuramente farà parte della partita di mercoledì. La gara di oggi ha dimostrato che questo Mr. Gaeta non reputa il campionato finito, ma anzi, forse sta già lavorando in prospettiva prossimo anno. Sì, i ragazzi devono dimostrare di volerla a tutti i costi e di rimanere qui nel progetto che sta predisponendo la società anche per il futuro, sia sotto l'aspetto del settore giovanile ma anche come prima squadra. Quindi oggi, come ho detto, bisogna dare merito a questi ragazzi che hanno creduto e volevano la vittoria fino alla fine a tutti i costi. Questo è un aspicio che per la società, come ho sempre detto, che noi dobbiamo raggiungere una classifica sempre maggiore. Oggi noi più del settimo posto non possiamo raggiungere, ma proprio matematicamente. Quindi ho detto, sia alla società che anche io, ai ragazzi, cerchiamo di mantenere questo settimo posto perché come primo anno di promozione per la Mistral è un risultato importante. Allora, in bocca al lupo e buona fine di campionato. Ci vediamo domenica prossima. Sì, sì, sicuramente. Fabio Fanelli è stata una bella gara contro il Terracina. Tu sei di Terracina, ancora di più un derby che hai rispettato sul campo da professionista. Sì, sì, dispiace comunque sia quando dall'altro lato, dopo che ho giocato per due anni e indossato la maia del Terracina per due anni, scendendo sempre di categoria e cercando di provare a risalire con il Terracina. Perché comunque sia, anche se non sono terracinese, però sono dieci anni che abbi a Terracina e quindi un po' mi sento cittadino in orario, come detto. E sentirsi dire, sentirsi insultare appena sono entrato, insultando mia mamma e i morti di mia mamma, ma lì mi ha dato fastidio, perché fino a che tu insulti me, giocatore, me, persona, me ne frega niente, fa parte del calcio. Però nel momento in cui tocchi i miei familiari, allora lì è che mi altra e che non mi sta bene. E quindi la reazione al gol, l'esultanza è stata pure per questo motivo, perché sinceramente il 2-2 mi dispiace aver levato punti importanti al Terracina, però questo fa parte del calcio. Per voi non era una gara per forza da vincere, però avete dimostrato sul campo una grandissima verba. E forse è un finale di stagione che serve a far capire che la ministra ha forza raccolto un po' meno di quello che poteva fare. Sì, sicuramente potevamo fare qualcosina in più. Ci è mancato fare qualche risultato importante con quelle che stanno sopra noi. Purtroppo questo non è avvenuto, è mancato un po' di esperienza, ma ci sta. Comunque la ministra è una società, è una neopromossa. Quindi essersi salvata senza patemi d'animo credo che sia bello sia per la società che per noi giocatori. Fare risultato oggi bello, importante con una società blasonata come Terracina ci riempie d'orgoglio. E ripeto, noi non regaliamo niente a nessuno fino alla fine del campionato, perché qui c'è gente che comunque si gioca la riconferma, si gioca tanto e quindi per noi ogni partita è fondamentale. È un campionato che adesso entra nel vivo. In due giorni giocherete due gare e si gioca già mercoledì. Per voi subito non è anche smaltire le tossine? Sì, fortunatamente abbiamo una rosa ampia che ci permette anche di gestire qualche giocatore. Noi, ripeto, come abbiamo fatto oggi andremo lì per cercare di fare la nostra partita e se riusciamo portare il risultato pieno a casa. Appuntamento a domenica prossima allora. E arrivederci, grazie.